Grazie per l'invito, grazie per essere qua oggi pomeriggio. Sono Monica Gori, sono responsabile della Unità per persone con disabilità visiva dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Io nasco da una famiglia di artisti e nel primo periodo di vita studio arte, dopodiché studio psicologia e infine faccio un dottorato in robotica, tecnologie umanoidi, quindi un percorso abbastanza variegato che mi porta da una forte passione per l'arte all'interesse per l'altro e all'interesse della tecnologia, tecnologia che però deve essere utilizzata per migliorare la qualità della vita. Partirò con questa frase, la gioia nel comprendere il dono più bello della natura. Ecco, io negli ultimi venti anni della mia ricerca ho studiato, ho provato a comprendere la multisensorialità. Vi parlerò dei sensi. I sensi, i nostri sensi sono la nostra finestra sul mondo, sono il mezzo con il quale iniziamo, interagiamo e possiamo percepire ciò che ci circonda. La capacità di un organismo di relazionarsi con il mondo esterno, infatti, dipende dalla sua capacità di elaborare, di interpretare in modo corretto le informazioni che vengono dall'ambiente. Ci svegliamo alla mattina, apriamo gli occhi. Grazie proprio alla vista riusciamo a vedere se il sole è sorto. Grazie all'udito riusciamo a capire se qualcuno si è già svegliato. Grazie all'olfatto riusciamo a renderci conto se qualcuno ci ha preparato del caffè. Grazie al tatto riusciamo a capire di che tessuto è fatta la coperta che ci copre. E grazie al sistema propriocettivo riusciamo ad afferrarla e a togliercela. Queste che sembrano delle operazioni semplicissime, in realtà richiedono dei processamenti cerebrali molto complessi. Ecco, noi studiamo proprio come questi sistemi funzionano. Sapevate per esempio che il nostro occhio riesce a percepire fino a 10 milioni di colori e riesce a vedere fino a 50 cose al secondo. L'udito non è mai spento, neanche quando dormiamo si spegne, continua ad essere attivo. E il naso riesce a memorizzare fino a 50.000 odori diversi nel corso della vita. Questa percezione ci permette di avere una vita ricca e sfaccettata, piena di cambiamenti, che per noi sono così importanti. Tuttavia la nostra capacità non è così sin da quando nasciamo, ma sviluppa con tantissima fatica. Alcune capacità sono già presenti prima della nascita. Pensate che a 7 settimane il bambino nella pancia inizia già ad avere un'informazione tattile. Quindi il tatto sviluppa prima di nascere. Allo stesso modo il gusto. Il gusto sviluppa intorno a 13 settimane. Quindi ancora prima di nascere il bambino ha una percezione del gusto. L'udito sviluppa uno o due mesi prima di nascere. Il bambino prima di nascere riesce già a sentire i suoni che sono fuori dalla pancia, come per esempio la voce della mamma, la voce del papà, se ci sono delle persone intorno oppure no. Infatti quando il bambino nasce è già in grado di riconoscere il sapore del latte o l'odore della mamma. I suoni che sente però devono essere circa 4 volte più forti di quelle che sente un bambino più grande. E solo intorno a 4 mesi riesce a riconoscere il suo nome. La vista è l'ultimo senso che sviluppa. Il bambino quando nasce riesce a vedere fino a 20-30 cm di distanza, che per lui però è sufficiente, perché è quello che gli basta per riconoscere la mamma e il papà. Prima di iniziare a riconoscere i colori devono passare 4 mesi e prima di riuscire a muovere l'occhio in modo coordinato ne devono passare 5 o 8. Un passaggio importantissimo per il bambino, che è fondamentale per tutta la nostra vita, è quella di iniziare a capire che questo è il suo corpo. Quindi intorno a 4-5 mesi lui inizia a muovere la mano e a vederla muovere e inizia a chiedersi, forse questa è mia. Questo momento nel quale riconosce che questo pezzo di corpo è suo, grazie all'associazione tra il movimento e quello che vede, è il momento in cui lui inizia ad usarlo e inizia ad usarlo per prendere gli oggetti. E quindi passa da dentro di sé a fuori di sé, la curiosità, l'interesse per il mondo. Non tutte le capacità però sviluppano così presto, per esempio la capacità di vedere movimenti complessi, piuttosto che di percepire cambiamenti fini o di riuscire a sentire variazioni del suono quando c'è del rumore o variazioni molto fini come per esempio variazioni musicali, richiedono tanto tempo e fino addirittura all'adolescenza in alcuni casi non sono pronti. Quindi il nostro cervello è molto bravo a riuscire a percepire le informazioni visive, uditive, tattili. Ma una cosa che riesce a fare ancora meglio, che lo rende ancora più speciale, è quello di riuscire ad integrarli. Quindi, quando si parla di integrazione multisensoriale, si parla della capacità del cervello di riuscire a migliorare la precisione della percezione dell'ambiente quando più sensi sono disponibili. Riesce ad essere più preciso, riesce ad essere più accurato, riesce ad essere più veloce. Ho portato una palla per farvi un esempio, adesso farò un palleggio. Mentre faccio il palleggio, informazioni visive, uditive, tattili, vengono integrate. Quindi io vedo quando la palla arriva, sento il suono della palla e i miei recettori tattili mi dicono che la palla ha toccato la mia mano. Queste tre semplici informazioni, scusate, questa doveva venire dopo, queste tre semplici informazioni permettono di migliorare la mia percezione. Quando io ho tre informazioni disponibili, riesco a rispondere con un'accuratezza di circa 100 millisecondi. Quando ne ho solo una, con una precisione di circa 150 millisecondi. Voi direte, vabbè, sono solo 50 millisecondi, ma 50 millisecondi vi permettono di evitare questo quando si gioca a pallavolo. Vi permettono di evitare di prendere la palla in faccia. I 50 millisecondi che il nostro cervello guadagna nell'avere tre informazioni invece che una, è funzionale per migliorare la mia interazione con il mondo. Il nostro cervello ha sviluppato questa capacità importantissima con tanta fatica. Ci sono però degli eventi nei quali queste informazioni non vengono integrate. Immaginate se questi, se i sensi fossero distaccati. Per esempio, vi è mai capitato di guardare la tv e di vedere la voce che è slegata dal suono? Vi è mai capitato? Ok. È molto faticoso, è molto fastidioso, perché non viene percepito come un evento unico. Vengono percepiti come due eventi separati. È un po' come quello che succede quando c'è il temporale e il lampo arriva prima del tuono, perché la luce viaggia più veloce e quindi si vede prima la luce e poi il tuono. Di solito però questo non succede. Perché? Perché non succede? I nostri segnali sensoriali non arrivano allo stesso momento. Pensate solo che l'informazione visiva arriva attraverso l'occhio, al cervello, l'informazione acustica arriva attraverso l'orecchio, l'informazione tattile attraverso il tatto. Al nostro cervello non arrivano nello stesso identico istante, però noi li percepiamo come integrati. È stato dimostrato che il nostro cervello riesce a percepire come integrate delle cose che avvengono con una distanza di circa 100 millisecondi. Quindi tutto quello che avviene all'interno di questi 100 millisecondi viene percepito come evento unico. E questo è molto funzionale, proprio perché permette di considerare questi piccoli ritardi. Quindi se il ritardo è maggiore c'è questa confusione, come vi succede quando guardiamo la tv o quando c'è il lampo disgiunto dal tuono. La stessa cosa può succedere anche nello spazio. Nel tempo abbiamo fatto l'esempio della tv e del tuono, nello spazio possiamo fare l'esempio dell'effetto ventriloquo. In questo caso noi abbiamo un'informazione visiva e un'informazione acustica. L'informazione visiva sembra essere disgiunta dall'informazione acustica. Noi sappiamo benissimo che a parlare l'attore non è il pupazzo, però non riusciamo ad essere attratti dalla voce della persona. È come se fosse veramente il pupazzo a parlare. Perché? Perché il nostro cervello non riesce a risolvere il conflitto spaziale e la vista attira il suono. Se facessimo la stessa esatta prova in una situazione di buio, probabilmente riusciremo a capire che il suono proviene dalla bocca dell'attore. Quindi il nostro cervello ha imparato a risolvere tutte queste problematiche cercando di ottimizzare quella che è la disparità degli eventi che ci sono nel mondo, minimizzando quelli che sono gli effetti dannosi. Quindi i sistemi sensoriali riescono a connettersi a livello cerebrale, rendendo più efficace la nostra esperienza sensoriale del mondo. E noi scienziati cerchiamo di sviluppare dei modelli matematici che riescano a descrivere come il nostro cervello funziona e come questo funziona in varie caratteristiche. Quindi la percezione sensoriale e multisensoriale sono alla base della nostra interazione con la realtà. Ma anche queste non sviluppano presto. Pensiamo alla capacità che ha un bambino piccolissimo di percepire il mondo multisensoriale. Il bambino appena nato riesce per esempio a capire se la bocca della mamma è associata con la voce della mamma. Però ci sono tante altre capacità che sviluppano tardi, che non sono ancora sviluppate fino agli 8-10 anni di età. Quindi capire come i sensi si comportano nel bambino è fondamentale se si vuole creare dei sistemi, per esempio di riabilitazione o di apprendimento, che vadano a sfruttare la multisensorialità. Ecco, un esempio classico che vi permette di capire che il bambino non ha l'integrazione multisensoriale sviluppata sin da prestissimo basta, è molto semplice da vedere, basta guardare un bambino che gioca con la palla. Un bambino che prova a giocare a pallavolo non ci riesce fino a circa 11-12 anni di età. Perché? Proprio perché probabilmente fino a quell'età ci sono dei ritardi sensoriali talmente grandi che non permettono di integrare le informazioni. Infatti pensate che i ritardi sensoriali del bambino di 7 anni sono il doppio di quelli del bambino di 11 anni. E' probabilmente per questo che le squadre di pallavolo non si organizzano fino a quell'età. Il calcio è probabilmente diverso perché in quel caso è una coordinazione, diciamo, piede e palla che è un pochino meno ricca di quella della manipolazione. Però anche lì, insomma, sui 6-7 anni. Io ho messo una slide nera. Perché ho messo una slide nera? Perché ci sono condizioni nelle quali uno di questi sensi manca, come la visione. Nella visione tutto quello che io, quando una persona non vede, tutto quello che io vi ho presentato, vi ho fatto vedere, non sarebbe stato visibile. E quindi proprio per questo gli altri sensi possono arrivare e essere di supporto. Così come nella scuola. Nella scuola i metodi di apprendimento, di insegnamento sono principalmente visivi. Ma invece quanto può essere importante sfruttare anche l'acustico e sfruttare anche il tattile e il motorio per riuscire ad apprendere in modo migliore. E questo è particolarmente importante quando riusciamo a capire quali sono i meccanismi cerebrali che stanno alla base dello sviluppo di nuovi dispositivi. E' proprio quello che facciamo in IT, nel mio gruppo di lavoro. Quindi studiamo il cervello per sviluppare nuovi dispositivi. Dispositivi che poi vengono validati attraverso di nuovi sistemi che permettano di vedere il miglioramento. Ecco, quindi questo è più o meno quello che diciamo facciamo. Studiamo la percezione multisensoriale, proviamo a fare dei modelli di quelle che sono le disabilità e andiamo ad intervenire con la tecnologia. Dove la tecnologia non è solo un obiettivo, ma è anche un modo per ritornare sulla scienza e quindi creare un'interazione tra scienza e tecnologia che possa portare un impatto, un miglioramento nella qualità della vita delle persone. Questo è il mio gruppo di lavoro e questo è dove lavoriamo, all'Istituto di Tecnologia Center for Human Technology di Genova. Quindi in pratica cosa facciamo? Facciamo dei test molto semplici a bambini, per esempio, come questi. Test multisensoriali, dove chiediamo al bambino di vedere, di toccare delle cose e estraiamo delle curve, come in questo caso, che permettono di dirci quanto il bambino ci vede o ci sente bene. E da questi studi di base sviluppiamo delle tecnologie. Adesso vi faccio degli esempi, faccio vedere degli esempi di come possiamo sviluppare tecnologie su tre campi, che sono la riabilitazione, l'apprendimento e il gioco. Quindi questa seconda parte, diciamo, è più applicativa e pratica. Io vi chiederei intanto se ci sono domande su questa prima parte, che era un pochino più teorica, sulla multisensorialità. In alternativa passo alla seconda parte più tecnologica. Bene, andiamo alla seconda parte, direi che è quella un pochino più anche di impatto. Allora, nel mondo ci sono circa, per quanto riguarda la riabilitazione, vi parlerò di alcuni esempi di riabilitazione nella disabilità visiva. Nel mondo ci sono circa 20 milioni di bambini con disabilità visiva, ma non ci sono dispositivi ad oggi per loro. E non è sempre vero che in assenza di visione le altre modalità sensoriali sono più sviluppate. Ci sono tanti casi nei quali in assenza di visione il bambino ritarda nella capacità di prendere gli oggetti, ritarda nella capacità di interagire con gli altri, nel gioco ritarda nell'apprendimento di caratteristiche anche matematiche, ma di qualsiasi aspetto, soprattutto che riguardi la spazialità del nostro mondo. Ecco, questo è un esempio di un braccialetto che abbiamo sviluppato, si chiama Abby. L'idea del braccialetto è molto semplice. Vi ho detto che intorno a 4-5 mesi di età il bambino inizia a, scusate, inizia a prendere, a vedere che questa è la sua mano. Immaginatevi di essere non vedenti. Voi, il bambino muove la sua mano ma non la vede, quindi non capisce che è la sua, quindi non raggiunge gli oggetti. L'idea di Abby è mettere un suono nella mano, così che quando lui muove il suo braccio riesce ad ascoltarlo e quindi capisce che è suo e inizia ad usarlo. Ecco, lo abbiamo usato, per esempio, in alcuni giochi con bambini con disabilità visiva. Questo è un raggiungimi, quindi il bambino deve raggiungere la riabilitatrice che ha il braccialetto. Questo è un bambino non vedente che corre e vi posso garantire che è abbastanza inusuale vedere un bambino non vedente correre. Bella! Bravissima! Vi sta facendo un acchiapparello sonoro. Lo seduto dov'è? Passa. Questi sono bambini non vedenti che si passano un oggetto grazie all'ascolto del suono. È stata un'esperienza unica, bellissima e dimenticabile che a distanza di due anni me lo ricordo ancora. Pensi che sia stata utile? Utilissima perché, ripeto, mi manca Abbi. Io lo mettevo al collo della bottiglia e quindi per me era indispensabile. Riuscivo a capire dove fosse la bottiglia posizionata sul tavolo. Quindi è unico. Poi per errore me l'ho fatto anche uscire Abbi non sapendolo che l'ho portato al supermercato e ce l'aveva mio marito al polso e io potevo seguire mio marito senza che lui mi stesse attaccato. Sapevo dove era lui. Che bello! Quindi questa è l'esperienza di una persona non vedente che ha usato Abbi per un mese o un'ora al giorno e adesso il prossimo obiettivo è quello di portarlo sul mercato. Possiamo lavorare anche sull'apprendimento. Quando si parla di apprendimento si parla di apprendimento di bambini vedenti ma anche bambini non vedenti bambini con varie disabilità perché la multisensorialità secondo me è la chiave per abbattere le barriere. Quando ci sono più modalità sensoriali disponibili è possibile avere più abilità insieme quindi il bambino sordo può giocare a fare la stessa attività di apprendimento attraverso la vista il bambino cieco lo può fare attraverso l'udito il bambino con disabilità motoria lo può fare attraverso le altre modalità ma anche bambini con dislessia che magari hanno problemi nel ritmo riescono a farlo se noi giochiamo con un'attività più spaziale quindi in generale si possono creare dei punti tra diverse abilità grazie proprio alla multisensorialità la vista, l'udito e il tatto infatti sono strettamente legate soprattutto durante lo sviluppo abbiamo dimostrato che prima di avere dei sensi integrati il tatto per esempio è fondamentale per insegnare alla vista quanto sono grandi gli oggetti quindi senza il tatto è difficilissimo per i bambini per esempio con disabilità motoria a vedere quanto è grande un oggetto il tatto insegna la visione diceva George Berkeley ma non è sempre così ci sono altre condizioni nelle quali la vista insegna il tatto per esempio come sono orientati gli oggetti o ancora l'udito insegna la vista e il ritmo ci sono dei ponti tra i segnali sensoriali nel bambino che se conosciuti possono favorire un sistema di apprendimento più efficace noi ricercatori li stiamo provando a delineare quindi capire quali sono le curve di orientamento di questi segnali in modo che sfruttando il segnale migliore sia più facile imparare lo specifico concetto quindi capire a cosa servono i sensi aiuta a capire a come sfruttarli nell'apprendimento in più siamo tutti diversi quindi non è detto che io usi la visione come la usate voi ogni bambino ha una sua caratterizzazione dove la multisensorialità lo identifica nella abilità e nella disabilità indipendentemente da quelle che sono le sue caratteristiche questo è l'obiettivo del lavoro che facciamo nell'apprendimento in questo progetto per esempio WeDraw abbiamo lavorato con un team di ricerca che coinvolgeva vari esperti in Europa per cercare di creare delle piattaforme per l'apprendimento della matematica alle scuole elementari che si basassero sulla multisensorialità abbiamo lavorato sulle frazioni create con il ritmo frazioni create con il corpo gli angoli imparati con i movimenti delle braccia il piano cartesiano che veniva rappresentato in uno spazio aperto dove il bambino si poteva muovere in un prato fiorito che adesso vedremo questo è il nostro prato fiorito dove il bambino si può muovere col sistema di realtà virtuale e imparare il piano cartesiano abbiamo sistemi dove invece ci sono dei robot che permettono di interagire con lo spazio per migliorare la comprensione della linea numerica ecco questo è un esempio che abbiamo fatto poi nella scuola di un bambino che sta apprendendo gli angoli quindi sta facendo una lezione di apprendimento sugli angoli con il movimento del corpo associato al suono e questo è un training che sia bambini vedenti che bambini non vedenti possono fare questo è un altro training dove questa è una bambina non vedente che sta esplorando uno spazio di piano cartesiano virtuale con questo robot che dà dei feedback diciamo dei ritorni sia tattili che sonori e la bambina riesce a scoppiare dei palloncini grazie alla guida che gli viene data dal robot e poi possiamo anche applicare queste conoscenze per il gioco quindi come andare a migliorare l'interazione sociale di bambini che non vedono di bambini anche che vedono e di farli giocare insieme questo è il gioco della sedia alla quale probabilmente avete giocato tutti da piccoli non so se lo conoscete tutti ma immagino di sì vedo delle teste che fanno sì io ci ho giocato un sacco abbiamo riadattato circa 20 giochi per bambini vedenti a bambini non vedenti cercando di sfruttare l'acustico quindi in questo gioco il gioco era uguale a quello che facevamo noi da piccoli con diciamo le sedie solo che rimuovevamo rimuovevamo un suono non una sedia quindi alla fine il bambino aveva un suono in meno e alla fine aveva due suoni invece che tre dovevano correre per riuscire a trovare i suoni che erano ancora presenti questo è un due e tre spettino oro dove ogni bambino aveva un suono diverso un cane un gatto un elefante una batteria e ognuno sapeva chi era l'altro il suono partiva solo con un accelerometro quindi quando il bambino si muoveva suonava quando il bambino non si muoveva non suonava e tra sé riuscivano a capire chi si stava muovendo o no e quindi era possibile giocare per la prima volta questi bambini non avevano mai giocato a un due e tre stella non avevano mai giocato al gioco della sedia hanno potuto fare questa esperienza grazie alle tecnologie che abbiamo inventato hanno giocato a un due e tre stella con i suoni e anche i bambini vedenti possono giocare con loro quindi facilitando l'integrazione e abbattendo le barriere era la prima volta che questi bambini che si vedevano sempre in ospedale a fare riabilitazione potevano giocare in gruppo questo è il gioco del fazzoletto e anche avere diciamo una reale competizione tra sé perché potevano proprio competere nel gioco abbiamo anche sviluppato dei sistemi per adulti di gioco questo è un tiro con l'arco sonoro che permette ai non vedenti per esempio di tirare con l'arco attraverso il suono quindi loro hanno questo ritorno acustico legato al movimento della testa e riescono a prendere il bersaglio quindi prima vengono guidati e poi lo fanno da soli dopo un po' imparano attraverso questo ritorno acustico che hanno sulle orecchie da tanti anni in collaborazione con l'istituto di tecnologia di Genova e ho scoperto tante belle cose anche tante capacità ai lati di me che magari sapevo poco di avere o non conoscevo o magari non avevo mai imparato ad utilizzare ecco loro sono stati comunque il mio aiuto la riscoperta di poter fare delle cose aiuto tramite la tecnologia ecco qua Luana dice loro sono il mio aiuto però in realtà questo lavoro si fa a due cioè loro ci aiutano a capire in che cosa hanno bisogno di essere aiutati e noi poi lavoriamo insieme per cercare di risolvere dei problemi lo facciamo con gli insegnanti lo facciamo con gli ospedali questa è la rete degli ospedali con i quali lavoriamo in Italia quindi è una rete abbastanza grande lavoriamo a livello internazionale con tanti centri in in varie parti del mondo che hanno già usato le nostre tecnologie e continuano ad usarle e adesso vi chiedo come potete usarle voi queste tecnologie che noi abbiamo sviluppato quindi cosa posso io portare indietro a voi che avete ascoltato la mia presentazione allora sicuramente questo è un del materiale un po' come nella presentazione precedente si è parlato dell'importanza del portare sui libri di testo queste conoscenze scientifiche ecco la multisensorialità è un argomento che non viene ancora trattato nelle scuole secondo me la multisensorialità è uno degli obiettivi da raggiungere per abbattere le barriere in classe si può parlare di multisensorialità si può parlare attraverso alcuni esempi che noi abbiamo preparato su questo sito dove gli insegnanti possono fare opportunità con i ragazzi in classe per spiegare quindi è importante vi faccio un esempio adesso l'unica indossa un camice mette una guanda in una mano e una mano finta nell'altra e noi chiudiamo la mano vera Giulia inizia a spennellare le due mani questo atto tattile fa sì che Giulia inizia a pensare che la mano finca la sua e se ne convince che la vede e la sente questo è una semplice dimostrazione l'integrazione multisensoriale non c'è bisogno di spiegazioni quando Giulia batte col martello la mano finta lui subito si toglie questi insieme ad altri dieci video che abbiamo sviluppato possono essere un modo semplice per iniziare a parlare di multisensorialità bambini vedenti bambini non vedenti possono farlo bambini con disabilità acustica abbiamo anche sviluppato dei sistemi che sono già distribuiti in classe quindi questo è un sistema per apprendere gli angoli che è distribuito dalla Di Agostini Scuola è online ed è gratis il risultato della nostra attività quella che vi raccontavo con gli angoli imparati attraverso il movimento del corpo può essere fatto in classe da tutti scaricando attraverso questo link il praticamente il gioco e quindi il bambino dovrà disegnare delle forme prima più semplici poi più complesse attraverso il movimento delle braccia grazie alla rotazione delle braccia riusciamo il bambino riesce ad internalizzare il fatto che la rotazione dell'angolo non è altro che una cosa diciamo molto semplice o comunque che può essere rappresentata anche con il movimento del corpo quindi fa embodiment di quella che è un concetto complesso di rotazione e abbiamo dimostrato che è efficace a livello di apprendimento infine se volete venire a Genova abbiamo sviluppato un 25 UDA nell'area archeologica dei Giardini Luzzati queste sono 25 attività diverse per imparare la matematica la storia le scienze l'inglese la geografia le classi possono andare e fare tutta una serie di attività che abbiamo sviluppato in collaborazione con altri gruppi per imparare questi aspetti in un modo multisensoriale in un'area archeologica facendo un escape room a presto sarà aperto per le scuole così che appunto bambini del territorio o anche da fuori potranno andare per apprendere in un modo nuovo quindi concludo dicendo la tecnologia è un modo per includere tutti se e soprattutto se è multisensoriale perché la multisensorialità può essere oltre a essere fondamentale come abbiamo visto nella prima parte della mia presentazione è un modo per poter far parlare un linguaggio comune a persone con abilità diverse vi ringrazio con un linguaggio comune